Facciamo vedere tutti gli zeri Quello è un po' storto di zero Questo? No, questo qua Vedi che non sono allineati Questo va un po' L'importante è che sono degli zeri No, no, sono tutti zeri Ok Sì, sì Oggi stiamo facendo la rampicata Oh, non dovevi salire su Sì, ma per prima e per dopo Tieni qua Vabbè Per voi Facciamo così Abbiamo visto Però Non avete visto Che c'era la sombra Così Wow Come se tu fossi così Ti arrampi qua Fai Uuuuuh Così Poi parliamo Così Andiamo A finire Qui E poi Da qui Andiamo Qui Così Poi Facciamo Così Così Andiamo così Poi Facciamo Così Arriviamo Qui E no, non dovevi fare la salita sulla torre No Come no Come no Non me l'hai fatta vedere ancora E infatti Andiamo E non sono qui Eh, dai Che non ti prendo Sennò lì Fammi vedere la torre Così 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 Poi facciamo così Poi Vediamo Qui No, qui E dobbiamo Decidamente Fare così Guardateci E Così Fare così E scendere giù E l'inchino? Poi Così Facciamo Così Per scendere Ok Andiamo Andiamo nell'altro estivo L'ha capito? Ma per prima Per andare nell'altro estivo Dobbiamo fare Le parole Prima questa In giro La verso Così Qui Poi Passiamo Dentro In giro Poi andiamo in un altro gioco, qui c'è dove c'è l'opera, è un... Che cos'è? E' una casetta, e poi sono i ding-a-lon, poi andiamo a trovare l'altro ding-a-lon. Poi facciamo così, poi andiamo a trovare l'altro ding-a-lon, ok? Poi, così, andiamo in queste cose che ci devi saltare sopra, così, e poi fai questa cosa, che si chiama simbolo al miradero, poi qui c'è una cosa che ti ferma così, e poi tu devi andare lì e parlare, vai qui e parla, parla quando te lo dico io, ok? Sì! Parla prima tu! Allora, dobbiamo per primo, tu mi devi dire ti voglio bene ciao ciao! Ti voglio bene ciao ciao! Pronto? Sì, chi parla? Sono io l'una di pronto! Pronto? Ciao ciao! Ciao ciao! Domani? Domani non ci sono più, io vado via oggi! Che cosa hai detto? Io oggi vado via, non ci sono più domani qua! E perché? Eh, perché non abitiamo qua! Sì, ma per finta! Ah, per finta, allora sì! Domani ci vediamo qua! Ok, poi vieni al giardino, io me ne vado! Ah no, dove vai tu? Eh, a Torino, poi vengo di nuovo a mia casa che vicino qua, e poi devo ritornare qui! Ciao! 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 Poi facciamo qui! Ok! Poi? Poi? Prendiamo! E andiamo! Prendiamo! Qui! Prendiamo! Così tale! Quattro! Prendiamo! Quattro! Quattro! Tornare! Prendiamo! Quattro! Vengono! Vengono qui! E andate! Vengono! Prendiamo! Quattro! Quattro! Uh! 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 C'è! Uh! Uh! C'è! Una cosa che ci chiama tammura! Guardate! Una cosa che ci siamo attaccati è questa l'erba, ci sono tutti i fiori, abbiamo finito, poi il video è finito. E quando dici che vuoi che finisca lo faccio finire. Saluto a tutti.